Ciao Girullers! Questa giornata in e-bike partirà dalla città più piccola d'Italia, che è Moncalvo nel Monferrato. Qui a Moncalvo ci sono uno sferisterio, che per chi non lo sa è il posto dove si gioca tamburello. C'è un bellissimo centro storico e soprattutto c'è un panorama spettacolare. Noi, con le nostre mountain bike pedalata assistita, da Moncalvo andremo su e giù per le colline, fino ad arrivare al sacro monte di Crea, all'interno di un parco naturale che è uno dei punti più alti del Monferrato. Come in tutte le nostre proposte in e-bike, il pranzo è compreso, così come la merenda e anche il noleggio delle bici. Una giornata in e-bike nel Monferrato. Ricordatevi il casco, vi aspetto!